Buongiorno a tutte e tutti. Oggi ci occupiamo di convenzioni di segno e della loro arbitrarietà di utilizzo. Prima vedremo un breve richiamo teorico e poi un esempio applicativo. Partiamo con la convenzione degli utilizzatori. Questa è quella a cui ci riferiamo quando un bipolo come questo ha la corrente definita come positiva entrante dentro il terminale con polarità positiva della tensione. In questo contesto noi possiamo definire una potenza come prodotto V per I e questa potenza assume significato convenzionale di potenza assorbita. Graficamente tutto questo è sinonimo di una potenza che entra nel nostro bipolo. Da questa parte invece abbiamo un bipolo analizzato in convenzione dei generatori. In questo caso la corrente esce dal terminale positivo della tensione. Nel passaggio da convenzione degli utilizzatori a convenzione dei generatori in questo caso abbiamo invertito il verso della corrente. La stessa cosa si poteva ottenere invertendo la polarità della tensione. Tornando alla convenzione dei generatori osserviamo che la potenza definita per questo bipolo è sempre definita dal prodotto V per I ma assume un significato convenzionale diverso. La potenza è una potenza erogata e quindi graficamente è una potenza che esce dal nostro bipolo. Quindi in estrema sintesi anche il verso associato alla potenza è opposto nel passaggio da una convenzione all'altra. Tutto questo e questo è da sottolineare a parità di definizione della potenza. Le convenzioni servono proprio a questo. La potenza è sempre definita allo stesso modo ma la convenzione ci permette di capire se quella potenza è una potenza entrante e quindi assorbita oppure uscente e quindi erogata. Con queste nozioni andiamo al nostro esempio. Andiamo a studiare un resistore con diverse convenzioni. Partiamo da quella più nota. Il nostro resistore è un resistore analizzato in convenzione degli utilizzatori. La legge di Ohm che noi tutti conosciamo ci dice che la tensione ai capi del resistore è proporzionale alla corrente che attraversa il resistore. Sappiamo anche che la potenza prodotto V per I è una potenza assorbita da questo resistore. Siamo abituati a dire che è una potenza assorbita ma questo deriva dal fatto che stiamo studiando il nostro bipolo in convenzione degli utilizzatori e quindi questo è proprio il verso da associare a questa potenza. Mettendo a sistema queste due espressioni andiamo ad ottenere due riformulazioni per il calcolo della potenza. R per I quadro oppure V quadro su R. Facendo un breve discorso su quelli che sono i segni di queste due espressioni scopriamo che in entrambi i casi sono sempre maggiori o uguali a zero perché la corrente e la tensione sono due variabili di rete che possono essere positive o negative ma vengono elevate al quadrato. Quindi questo termine e questo termine sono sempre positivi moltiplicati o divisi per una resistenza e anche la resistenza è un valore positivo. Ne consegue che la potenza associata a questo bipolo con questa convenzione di studio è sempre positiva. Il fatto che sia positiva significa che concorde con la convenzione utilizzata quindi il bipolo assorbe sempre potenza quindi il bipolo è passivo ed è anche dissipativo perché sappiamo che questa potenza viene dissipata in calore. Quello che facciamo adesso è provare a studiare il nostro resistore con una convenzione che non è così comune perché essendo questo un bipolo passivo e noi lo sappiamo tendiamo ad utilizzare la convenzione degli utilizzatori. Ma cosa succede se io vado ad utilizzare la convenzione dei generatori? Cominciamo a capire qual è il legame tra la tensione V e la corrente I che abbiamo definito nel caso precedente e la tensione V' è la corrente I' in questo caso. Beh chiaramente la tensione V è uguale alla tensione V' perché prima avevamo una tensione con polarità positiva verso l'alto e polarità negativa verso il basso adesso abbiamo una tensione con polarità positiva verso l'alto e negativa verso il basso. Il componente è lo stesso e quindi queste due tensioni sono le stesse. Prima avevamo una corrente che andava dall'alto verso il basso e adesso dal basso verso l'alto. vale a dire che abbiamo cambiato il segno, il verso della corrente. Quindi questo è il legame. Ora se prima la nostra legge di Ohm ci diceva che V era uguale a R per I, adesso andando a sostituire scopriamo che la nostra legge di Ohm in convenzione dei generatori diventa V' uguale R che moltiplica I, ma I è uguale a meno I'. Il meno lo metto qua e qua ci metto un I'. Quindi andiamo a scoprire un primo risultato. La legge di Ohm nel caso di bipolo resistivo, quindi di resistore analizzato in convenzione dei generatori, si modifica un po'. Bisogna inserire questo segno meno. Questo segno meno deriva dalla convenzione di studio utilizzata. Continuiamo la nostra trattazione. Parliamo sempre di potenze. Abbiamo visto precedentemente che la potenza, chiamiamola P' in questo caso si può definire sempre come prodotto V per I, ma attenzione, questa è una potenza convenzionalmente erogata. Quindi P' esce dal nostro bipolo. Se andiamo a calcolarci P' andando a sostituire un po' quello che abbiamo scritto qua, al posto di V' possiamo andare a scrivere meno R per I' che moltiplica I'. Quindi tutto questo diventa un meno R per I' elevato al quadrato. Oppure, seconda strada, V' lo teniamo e poi andiamo a sostituire I'. Ok? In questa espressione qua I' ce la calcoliamo come meno V' fratto R. Questa qua è la nostra corrente I'. Quindi anche qua abbiamo un segno meno e abbiamo V' al quadrato fratto R. È facile capire che questi due termini sono sempre minori di zero perché I' partiamo dall'espressione di sopra. I' è una variabile di rete, può essere positiva o negativa, ma elevata al quadrato sarà sempre positiva, che moltiplicata per R, che è un valore sempre positivo, mi darà ancora un valore positivo. E poi lì davanti c'è un segno meno che mi fa diventare la potenza P' sempre minore o uguale a zero nel caso in cui questa corrente sia nulla. Lo stesso discorso vale qua sotto perché V' elevato al quadrato sarà sempre positivo a prescindere dal suo segno. Diviso per R sarà ancora positivo e moltiplicato per questo segno meno diventerà negativo. Vale a dire che questa potenza sarà sempre negativa, cioè sarà sempre discorde con questa convenzione. Questa convenzione mi dice che la potenza è convenzionalmente erogata. In realtà noi andiamo a scoprire che dal punto di vista fisico il flusso di potenza è una potenza assorbita. In buona sostanza otteniamo sempre una potenza erogata negativa e quindi una potenza assorbita. Vale a dire che abbiamo ottenuto lo stesso risultato di prima anche utilizzando un'altra convenzione. In altre parole, se noi utilizziamo una convenzione, qualunque essa sia, e dopodiché ci comportiamo in maniera coerente con quella convenzione, il risultato è indipendente dalla convenzione utilizzata. E questo è tutto.